benvenuti in questo video molto molto scherzoso perché mi è venuta in mente una cosa ero a casa sto pensando abbiamo fatto una recensione di un prodotto che è veramente eccezionale ma il mio canale sostanzialmente è nato per fare video tutorial non recensioni quindi voglio spiegarvi che non veramente in un video veramente iper 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 veloce come configurare questi powerline externe scusate questi powerline allora innanzitutto vado velocemente a prendere i prodotti eccoli qua distinzione tra i due nessuna quindi uno mettete vicino al modem router l'altro lo potete mettere per esempio sulla playstation 4 mysky hd piuttosto che il vostro televisore piuttosto che il vostro computer oppure a un access point magari al terzo piano che vi serve per rilanciare il segnale wifi insomma potete mettere dove volete distinzione tra questi prodotti ve l'ho già letta nessuna quindi o uno l'altro vicino al modem router non c'è nessun problema ma una volta messo nella corrente vicino modem router e cosa dobbiamo fare dobbiamo sempre con la scatola di avm collegarci un bel cavettino a terra qua sotto e l'altro mettete al modem router poi l'altro lo portate nella vita diciamo nella zona dove vi necessita vi ho detto prima cosa ci potete collegare una volta attaccati tasto di secure da una parte tasto di secure dall'altra chiaramente i prodotti devono essere tutti e due collegati e i prodotti sono configurati bene quanto ci ho messo due minuti bene vi saluto al prossimo video ciao ciao